Oggi siamo qua su Mario Sport Mix ovviamente abbiamo raggiunto i 35 mi piace e quindi ovviamente stiamo facendo un altro episodio e che purtroppo vabbè intanto presento una mia che non ho detto con tutte le cose che ho a dire e le fanno sbordando però ovviamente c'è c'è sottinteso ormai Nello scorso episodio come avete potuto vedere se non l'avete visto soprattutto vi lascio il link in descrizione Allora praticamente purtroppo nello scorso episodio a Dodgeball abbiamo perso che purtroppo non ha risposto ai miei comandi e quindi niente E vabbè succede? Era appunto il terzo round perché avevamo vinto il primo noi, il secondo loro e il terzo loro Purtroppo io non ci posso fare niente, niente e papà quindi Vai Ricominciamo Oh non riesco mai a prenderla a farla Ricominciamo, vediamo se questa volta, anche perché questo campo sinceramente non mi piace per niente però Però Hai fatto un po' di finta eh? Ehi, infatti Babaluco No No Sempre alla terza qua eh Ah perché? Eh te la date? Eh, no No Vai Vai eh Ah perché? Eh te la date? Io non l'ho chiesta Io non l'ho chiesta L'ho chiesta io però non la passa a volte Attenzione No Eh, cercate schifare ma non l'ho schifato Eh, vedete che a forse non corrisponde ai comandi e mi da un fastidio Ora faccio una cosa E' una bomba Tutte e due BOMBE Uno fuori E vai E questo ultimo Set Sta andando bene ma Magari non è ancora l'ultima parola Oh ma che buona Guarda bene Oh Oh la voleva, voleva eh, voleva Un viso che voleva Dalla fare Guarda Guarda Che è? La ha preso Che è apprendando? Non ti dà più se Ma cosa sta facendo? Ah se sta facendo? Ah se sta facendo? Pensa tu Oddio come va? Perché mi ha fatto? Attenzione Ma tanto la vita mi ha tolto No no Ah Ok La ha presa? Sì o no Io rimango qui eh Rimango qui Tu salvati Ti prego Uh Mi ha salvato Mi ha scivolato Fortunatamente Oddio come hai fatto a non prenderla Non lo so quel tizio Nooo Merda tutta la vita Quanti cavolo di quante aveva scusa Non lo so Comunque ha poca vita E usa la Almeno stiamo a costo Ti stava passando Ok E questo primo set è andato ragazzi Eh lo scorso quell'altro set me l'abbiamo fatto schifo Eh purtroppo non possiamo L'altro gioco L'altro gioco L'altro episodio Possiamo soltanto limitarci a dire che questo set è andato bene Non possiamo dire che ormai la partita l'abbiamo vinta perché come nello scorso episodio addio Quindi Purtroppo Eh Oh Nena Ok Ok A volte lo prendo a volte no Oh 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 No ho presa Oh già Ma guarda oh Sono riuscita a prendermi purtroppo Dai No Non ho sentito che la prendevo Oh Ah No Oh Ah già l'ho deviato ma Aspetto che ok Aspetto che ti innalzi Oh a me la prendono sempre così eh Vai O te scusi hanno Eh t'ho presa a te ma l'ho presa anche lui Vai vai No volevo tirare all'altro Stai non chiedi la chiedi No Ah 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 Sto cercando di camminare con A eh Con O Vabbè lei colpita Lei colpita un po' eh Ok vai vai No No ho passato che firlone che sono stato Ma che strombolo No Oh Vai Picchialo Ma come Ma non hai visto che ho Eh No Che strombolo Non mi ha dato tempo No che poi io ho visto che stavo girando Non se c'è fatto caso Io so mi sento la capriola ma Non mi ha dato per buona Passa passa Oh Bumbe La presa papà Ma dai Passa la Eh la stava passato Ho fatto con l'uno Ma no Ok Ok Rientra Cerca devi rientrare perché se no stavo in mezzo alla via Ok Io sto vicino a te eh Oh Ma Perché Ma dai non è possibile Oh passala Passala L'ho presa io quindi E vai Ok rientro Rientro Hanno poca vita Anzioni ho poca ma tu ne hai Tu ne hai più della metà Quindi forse forse Qui si sa Oggi attenzione a quel fungo Ok Attenta Oh Oh la presa vai Oh Dai no la ripresa Non c'è Ma è diventato un piccolo spazio Passala Basta Oh Stava di spalle Non ti l'ho passata perché stavo cercando di Eh ho visto che il bambino si girava tanto bene che gli ha tirato Ehm Ok Comunque quel tizio non so se ci hai fatto caso ma l'ha diventato piccolo qua L'ha puntato eh No Oddio sei fuori tu Ehm Fuori noi Capri due Tutti due fuori Sii Che cosa ha fatto Non lo so Ma no no Allora quando vediamo che soprattutto Luigi che punto una persona l'altro se ne va Eh se ne va infatti Eh come se mi prendeva a me Perché ormai non ci va puntato non cambiava sicuramente il bersaglio Ma no 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 Anche se questo Anche se in questo episodio perdiamo rimaniamo secoli con sto dodgeball e cavolo Eh Ah Ah Ok A volte quando vediamo che l'altra persona è in difficoltà Tipo mettiti davanti così Almeno ti tirano, ti tirano qui Ok C'è abbiamo un oggetto? Si Almeno magari salvi la persona capito Oh Cioè tipo tu sei Ah una presa? Se tu cosa sei in difficoltà io faccio così Uh Uh No No Ok mi giocherai colpizio Ok Ok Vai che colpito questo Ok questo Oh Se vinciamo questo abbiamo vinto Noi Usa l'oggetto Vai Oh Ok No 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 Stavo dispando mi sono pure girato No Girati No Ok Tiè Ma dai Ma come si fa vai No aspetta Alla vicino un po' Oh Ma No Ma come si fa Tira questa bomba ma fa frega Oh Vai Luigi fuori Almeno uno dai Io sto sull'altro parecchio Eh Pure io Oddio ma tassi Ma ho attraversato Ahahah Ma che cosa è successo Ma dai Vai dall'altra parte Vai dall'altra parte Ah ok no Già l'ha preso quella Oh che stava facendo Papà Papà non ti spostare quando te la passo Se no non la prende il personaggio Vai Prendilo di la No un po' più sopra devi andare Vedi quello Ma tu che ti sposti mentre te la passano Su con l'uccetto Oh vai Oh ok Uffa frega Ah Almeno questo episodio ci abbiamo fatto In realtà Ho tenuto Anzi Più che altro Temevo che avessimo fatto anche questa proprio Stavolta andata bene eh Si Si sinceramente ho avuto un po' di paura Meno male Ok Ok Comunque Finiamo letteralmente così So che Insomma questo episodio È stato un po' corto Anche perché Sono due episodi con dodgeball Mi dispiace davvero tanto ragazzi Ma purtroppo Non è stata colpa nostra Se abbiamo perso Anzi Un pochino Nello scorsi di video è stata colpa nostra Però Quindi il prossimo cambia Eh Cambia Speriamo che sia pallacanestro Perché io non voglio che la finale sia pallacanestro Comunque appunto A 35 Mi piace Facciamo un altro episodio E proseguiamo Almeno speriamo Che riusciamo a fare questo Che riusciamo a completare Eh si Questo torneo sport mix Quindi Io direi che possiamo ferramarci qua con questo episodio Lasciate un mi piace Commentate E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Ciao a tutti Ciao a tutti